Più di 450 atleti in arrivo da 34 nazioni sono già numeri da record, quelli della tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio prevista a Varese dal 12 al 14 aprile. Iscritti ben 7 equipaggi, sia nell'otto maschile che in quello femminile, per un evento che si annuncia davvero spettacolare. Siamo molto soddisfatti, afferma Pierpaolo Frattini, direttore generale della Canottieri del Comitato Organizzatore. Un successo reso possibile dalla location e dal lavoro del comitato che a livello internazionale gode di grande considerazione. Dopo Varese sono previste altre due tappe a Lucerna e nella polacca Poznan.